Ciao e benvenuto in questo video in cui ti presenterò la top 4 dei migliori PC portatili del 2021. Let's go! Al quarto posto abbiamo selezionato il laptop Apple MacBook Pro M1 chip da 13 pollici. Su questo MacBook da 13 pollici i pixel sono raggruppati in modo tale da offrirti un'immagine di migliore qualità attraverso la tecnologia retina introdotta in questo dispositivo. Inoltre offre un display ben definito e nitido. Lo schermo è dotato di un profilo colore DCI-P3 che è una tecnologia che si ritrova principalmente nell'industria hollywoodiana per i display a colori. Pertanto questo MacBook ti offrirà immagini di qualità superiore. Apprezzerai anche l'eccellente calibrazione delle immagini offerta grazie alla funzione True Tone. Per le tue attività quotidiane True Tone è infatti una grande risorsa perché rende il display molto più naturale. Il MacBook Pro da 13 pollici è piuttosto compatto. Infatti il suo design unico in alluminio ti darà una sensazione unica e di estrema solidità. Come al solito su Toptec se vuoi ottenere maggiori dettagli sulle specifiche tecniche e i migliori prezzi che abbiamo trovato su internet vai alla descrizione di questo video. Avrai tutti i link cliccabili a tua disposizione. Al terzo posto abbiamo selezionato il laptop Apple MacBook Pro i9 da 16 pollici con una potenza della batteria mai vista prima e una capacità di archiviazione massima il laptop Apple MacBook Pro i9 e il computer per eccellenza. Lo schermo di questo laptop ti mostra bianchi spettacolari e non solo. Le immagini saranno pazzesche. Ha un preciso fotoallineamento dei cristalli liquidi. Ciò garantisce neri profondi. Inoltre con la sua grande tavolozza di colori P3 puoi goderti video e foto con uno straordinario realismo e nitidezza. Progettato tramite un'architettura termica avanzata il processore Intel Core i9 in questo dispositivo può trasportare fino a 8 core garantendo un'ottima potenza di elaborazione. Questo dispositivo è veloce come un lampo. Ti assicuriamo che sarai soddisfatto delle sue elevate prestazioni per molto tempo. Provalo e facci sapere la tua nella sezione commenti qui sotto. Al secondo posto abbiamo selezionato il laptop Huawei MateBook D15 2020 da 15,6 pollici. Nonostante la sua compattezza è dotato di diverse porte. Menzioniamo una porta HDMI, una porta jack e tre porte adatte per le tue chiavette USB. Inoltre c'è un adesivo su cui puoi semplicemente posizionare il tuo telefono Huawei. Questo permette di combinare i dispositivi consentendo di controllare lo smartphone da questo computer senza alcuna connessione internet. Questo laptop ha un processore AMD Ryzen 7 3700 app che migliora e accelera efficacemente le prestazioni della macchina. Inoltre con il suo disco rigido SD e 8 GB di RAM potrai goderti una lettura e scrittura estremamente veloci. Infine potrai accedere al tuo computer con un semplice tocco. Infatti il suo sensore digitale integrato nel pulsante di accensione consente di sbloccare il dispositivo molto facilmente. Possiede infine una fotocamera retrattile che non solo lascia più spazio allo schermo ma garantisce anche la tua privacy. E ti ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato su internet fai clic sui link nella descrizione di questo video. Al primo posto abbiamo selezionato il laptop Microsoft Surface Pro 7. Il laptop Microsoft Surface Pro 7 ti permette di passare velocemente dalla modalità tablet o studio alla modalità laptop. Per un'esperienza ottimale ti consigliamo di abbinarlo a una tastiera Surface. Ha un processore Intel Core e la sua ricarica è molto rapida. Qual è il concetto? La sua grande autonomia gli permetterà di durare tutto il giorno. Lato design è possibile personalizzarlo sia con colorazione platino che nero. Inoltre non esitare a trasformarlo in un computer a tutto tondo grazie alla Surface Go Signature Keyboard, Surface Pen e Surface RC Mouse. Troverai tutti questi accessori in diversi colori quindi scegli quelli più adatti a te. Con i suoi doppi microfoni sarai in grado di essere ascoltato molto chiaramente. Ora quello che ti invito a fare è andare alla descrizione di questo video e fare clic sui link per ottenere tutte le funzionalità più complete e i migliori prezzi che abbiamo trovato su internet. Se questo video ti ha aiutato a fare la tua scelta metti ci un mi piace e iscriviti al canale Top Tech per essere informato sui prossimi video. Ci vediamo la prossima volta qui su Top Tech. Ciao!